All'interno del circolo cittadino di Manduria è stata allestita una mostra di presepi. Sino al prossimo 6 gennaio è possibile visitare queste opere realizzate da 12 artisti, non solo provenienti da Manduria ma anche dai paesi limitrofi. La mostra di presepi si inserisce nell'ambito delle attività culturali e ricreative proposte dal circolo. Sentiamo il presidente Raimondo Turco. Stiamo parlando di maestri che espongono non solo a livello locale, Manduria, Francavilla, Marugio, la zona nostra, ma queste gente che espone a livello nazionale. Quest'anno stanno esponendo solo nella zona nostra, ma fino all'anno scorso hanno esposto a Verona. Stiamo parlando di gente che lo fa per la prima volta. Questa è gente che, anche se per passione, però la qualità si vede. Noi stiamo parlando di alta qualità e noi grazie a loro organizzeremo anche un corso per fare presepi di carta pesta soprattutto. Infatti i materiali utilizzati sono piuttosto vari, predomina però la carta pesta che è una nostra anche tradizione. Certo, si, predomina la carta pesta e noi organizzeremo, passata dopo l'epifania, organizzeremo un corso di carta pesta sperando di attirare gente di un'edà inferiore alla mia, insomma, più giovani, per cercare anche di passare il testimone quanto prima a loro. Noi stiamo lavorando per migliorare il posto, per migliorare il tutto. Sta aumentando il numero di soggi e quindi aumenta il numero di soggi, facciamo più iniziative, più attività e che stiamo, sta avendo un po' di successo, insomma, abbastanza, insomma. Ecco, legato al periodo natalizio avete appunto predisposto a una serie di iniziative. Un programma di iniziative anche di natura culturale, non solo la solita cena, non solo la solita manifestazione. Ci saranno diverse iniziative che stiamo portando avanti, che comportano un certo impegno, però stiamo lavorando. C'è un bel gruppo che lavora e quindi stiamo andando avanti. E con l'obiettivo di rilanciare la tradizionale letterina di Natale, il Circolo Cittadino di Manduria ha bandito un concorso Natale, la poesia dei bambini, finalizzato alla valorizzazione del Natale, la festa più amata dell'anno, legata spesso a un'atmosfera gioiosa, ma anche ai sentimenti di solidarietà. Per partecipare al concorso, ogni bambino scriverà una letterina di una pagina al massimo, inviandola al Circolo Cittadino. Le opere saranno poi esaminate da un'apposita commissione, che premierà i bambini classificatisi ai primi tre posti.